Giuseppe Di Pietro, la Giunta regionale ha recepito le gradatorie Corecom nell'ambito della legge per l'editoria che ammettono finanziamente anche Telemolise, una battaglia che il sindacato ha portato avanti in questi anni. Certamente, noi da anni rivendichavamo questo fatto, con la politica abbiamo avuto serrati incontri trattative, poi finalmente l'amministrazione in carica ha ritenuto che si dovesse dare corso a quelle che erano le nostre legittime richieste, legittime in difesa delle redazioni e delle testate. Questo significa che avevamo visto giusto e meno male che meglio tardi che mai, come si dice. Ora si apre adesso un dibattito pieno, perché no, anche una verifica sulla applicazione della legge sull'editoria. In che senso? La legge doveva servire per aumentare il mercato del lavoro, crearne uno vero, e poi perché doveva servire a migliorare la qualità dell'informazione. Qualità intrinseca, cioè significa che il giornalista, l'attestata deve essere davvero il responsabile di quello che accade, dell'informazione, dei fatti della nostra regione. Questo significa formare un'opinione pubblica in maniera completa, in maniera puntuale. Questa è una grande responsabilità. Avere dei fondi pubblici significa avere anche un'ulteriore responsabilità, sia per quanto riguarda l'editore, sia per quanto riguarda i giornalisti. Quello della crisi dell'editoria è il momento in cui tutti gli organismi di categoria devono essere compatti a difesa e a tutela dei diritti dei giornalisti e che naturalmente poi diventa anche una difesa degli editori. A noi fa piacere che ci sia stato lo sblocco. Tra l'altro è una richiesta specifica che l'ordine ha fatto al Presidente Toma, e questo io ho una copia, è datata 27 marzo 2019, proprio lo sblocco dei fondi dei bandi pregressi. E non solo. Noi avevamo chiesto come ordine al Presidente della Regione Toma ma anche l'abrogazione dell'articolo che prevedeva quel limite dei 40.000 euro per poter accedere ai contributi regionali. Quindi l'ordine si è attivato subito. Come Presidente dell'ordine ho convocato più riunioni monotematiche su questo tema della crisi dell'editoria lo scorso anno. Molte riunioni sono andate deserte. Chissà perché qualcuno ha voluto giocare probabilmente strumentalizzando anche la situazione, per quali fini posso soltanto immaginarlo, e magari qualcun altro è rimasto strumentalizzato da alcune posizioni. Noi lavoriamo a testa bassa come ordine, non ci tiriamo mai indietro anche se qualcuno vuole tirarci per la giacchetta. Ma ripeto, a testa bassa soltanto a difesa dei diritti dei colleghi.